Senatore Patuanelli, dichiarazione di voto? Sì, grazie Presidente, dichiarazione di voto sull'emendamento 3.7 che ha una caratteristica che lo differenzia dagli altri pur centrando sempre il tema delle regioni. Cioè non chiede di sostituire la questione del Governo ma specifica che oltre il Governo anche delle regioni e delle province autonome. Ora, ho sentito alcune cose francamente surreali dire che a livello regionale si indaga sulle regioni, a livello nazionale e sullo Stato. La tutela della salute nel senso dell'articolo 117 della Costituzione è materia concorrente e l'indagine deve essere congiunta. Io credo, l'ho dichiarato durante il mio intervento in discussione generale, a dimostrazione che noi non abbiamo paura di queste indagini. Se questo emendamento passa noi voteremo a favore del provvedimento. Cioè l'approvazione di questo emendamento determina il fatto che noi voteremo a favore del provvedimento. Chiedo quindi per il tramite della Presidenza, posto che questo emendamento ha già avuto il parere contrario del relatore Governo, chi è che ha paura di qualcosa? Grazie.